Leggermente discosto Passion Bar Boy, macchina che prende velocità, mancano 100 metri al punto dello start. Stacco della macchina con Nicky Del Duomo impegnato da Pietrasanta di R a largo Lovingside, in bocco della prima piegata con Nicky Del Duomo che va per rientrare a Pietrasanta di R. Lovingside lì in attesa degli eventi, più indietro Pavoncello, l'errore di Pietrasanta di R. Numero 4 Pietrasanta di R, squalificato. Insiste Lovingside che va su Nicky Del Duomo, ottiene il via libera, senza spesa e battistrada in ampia decelerazione da subito con secondo paletto in 14.8, 400 iniziali in poco meno di 29. Lovingside ha portato il tema tattico dalla propria parte, alle sue spalle Nicky Del Duomo precede Pavoncello, quindi il resto del gruppo con Owen of Glory che è all'altezza del circuit Passion Bar Boy. Quando si viene davanti alle tribune per il passaggio il ritmo è sensibilmente diminuito. Lovingside battistrada, 800 metri dalla conclusione, giro di gara in un minuto e due decimi, alle sue spalle Nicky Del Duomo. Poi Passion Bar Boy al fianco di Pavoncello cerca di prendere la via esterna, anche Popstar all'altezza del sulchi di Owen of Glory, alla retroguardia Paciugo. Mille di gara in 1.15.8 con Lovingside, leader nei confronti di Nicky Del Duomo quando si va a metà della dritta di fronte. Passion Bar Boy che si industria sui primi quando ormai si è al completamento dei 1.200, chiusi da un paletto ancora in controllo in 15.2 da parte del leader Lovingside che accede alla metà della piegata finale ma non troppo per non dare la destra libera a Nicky Del Duomo. A 300 metri al termine, Lovingside in vantaggio, ora prende margine alla destra a Nicky Del Duomo. Sul calo di Passion Bar Boy cerca spazio per respirare anche Pavoncello, la retta arrivo con Lovingside in vantaggio, inseguito a largo anche da Owen of Glory insieme a Nicky Del Duomo. Owen of Glory che insiste, va su Lovingside che si difende sul palo, ancora Lovingside nei confronti di Owen of Glory. Fra i due terzo, Nicky Del Duomo, quarto Passion Bar Boy, brutto di camminata dopo il palo. 2-1 il totale, 29.9 gli ultimi quattro, il successo di Lovingside. Lovingside Antonio Greppi, il tren di Franco Baldini da programma e i colori del signor Pierluigi Gandini. 1.15 spaccato, la media al chilometro.